Cari amici, ricevo e pubblico questo documento che mi ha inviato l'avvocato Ennio Bonadies, emerito sostituto procuratore generale, cassazionista, spettabile Simone Di Meo, direttore responsabile Stilo 24, spettabile Giancarlo Tommasone, capo. Oggetto richiesta di Ennio Bonadies di rettifica di due diffamatori articoli inerenti un'asserita intervista pubblicati su Stilo 24 in data 5 e 6 maggio 2021. Tra virgolette, manipolazione di colloqui telefonici. Io sottoscritto, dottor Ennio Bonadies, ai sensi dell'articolo 8, legge 8 febbraio 1948, numero 47, chiedo la rettifica dei due diffamatori articoli in oggetto indicati, entrambi firmati da Giancarlo Tommasone, mediante pubblicazione integrale, anche nel titolo, della presente lettera. Sono magistrato in pensione dal marzo 2011 e, da allora a tutt'oggi, avvocato. In tale ultima qualità sono stato per vari anni difensore e legale di Lauri Achille, noto come comandante Marcos, fino al febbraio 2021, allorché ho rinunciato al mandato. Oltre ad assisterlo in alcuni procedimenti e richieste risarcitorie, ho predisposto per il Lauri, negli anni 2018-2019, varie lettere inviate ai massimi organi dello Stato e ai quattro ministri dell'interno succedutisi, Alfano, Minniti, Salvini e Lamorgese, con le quali, oltre a chiedere un congruo indennizzo risarcimento per tutta l'attività svolta in vari decenni per il SISDE e per i danni conseguenti, uccisione di due fratelli, attentati, ferita da arma da fuoco in missione in Sud America, ingiuste detenzioni, eccetera, comunicavo la disponibilità del Lauri ad infiltrarsi in due grosse organizzazioni criminali, dedite l'una alla falsificazione di miliardi di euro di titoli della Banca d'Italia e banconote, l'altra alla falsificazione di passaporti e certificati di soggiorno per gli immigrati clandestini, nonché patenti di guida e documenti vari per i latitanti, nonché la sua disponibilità richiesta di essere sentito dalla Commissione parlamentare antimafia per disvelare le altissime collusioni istituzionali che non hanno fatto accertare tutta la verità sul sequestro Cirillo, sui 45 miliardi raccolti da Parisi per il riscatto, sul omicidio di Alberica Filo della Torre, sugli omicidi del commissario Ammaturo e di Enzo Casillo, sugli omicidi di due suoi fratelli, eccetera. Il 2 maggio sono stato contattato a mezzo Whatsapp da Lauri Achille che, nell'informarmi di servizio diffamatorio nei suoi confronti di chi l'ha visto, trasmesso il 28 aprile 2021 e di sua replica 30 aprile 2021 su Informal TV in relazione alla sua collaborazione col SISDE. Mi ha chiesto una dichiarazione scritta relativa alla sua collaborazione esterna col SISDE che gli ho predisposto ed inviato il 3 maggio 2021. In essa ho erroneamente scritto che nel 1980-81 Parisi era direttore del SISDE, tra virgolette, laddove invece ne era il vice direttore. Il 5 maggio 2021 alle ore 11.16 sono stato contattato da Tommasone Giancarlo, presentatosi come giornalista. Essendo impegnato momentaneamente dico che lo richiamo appena libero, cosa che faccio alle ore 11.37 senza ricevere risposta. Alle 11.55 sono richiamato dal Tommasone e il colloquio termina alle ore 12.49. Tommasone mi ha tra l'altro chiesto più volte se avessi visto la documentazione SISDE citata nella mia dichiarazione scritta del 3 maggio 2021, ricevendone risposta negativa. Dopo il colloquio, quello stesso giorno, su Stilo 24 è pubblicata un'asserita mia intervista mai resa, della quale vengo informato dal Lauri Achille che mi invia l'articolo su Whatsapp. Ovviamente protesto e chiedo conto al Tommasone con telefonata del 6 maggio 2021 alle ore 18.32, ma Tommasone risponde con fermezza che è un'intervista della quale mi ha informato preventivamente. Io rispondo che comunque il colloquio è totalmente travisato per l'inserimento di domande mai fatte e chiedo di inviarmi la registrazione dell'asserita intervista, ma mi risponde che non è stata fatta alcuna registrazione. Circostanza non veritiera dal momento che nell'articolo, dopo l'aggettivo mastodontico, tra virgolette, da me realmente pronunciato, è scritto tra parentesi SIC. Fatto sta che dopo la mia telefonata al Tommasone, l'articolo 5 maggio 2021 dal titolo Sono certo che Achille Lauri fu infiltrato nella camorra dal SISDE è stato cancellato da Facebook. Quanto a Parisi, direttore del SISDE, scritto nella mia dichiarazione del 3 maggio 2021, trattasi di Errore Mio e non del Lauri, che nella sua replica a 30 aprile 2021 su Informal TV, ha qualificato Parisi vice direttore.